Cosa sono i cigni neri? Buongiorno e benvenuti ad un nuovo episodio della Finanza Amichevole. In considerazione del periodo spieghiamo cosa sono i cigni neri e le loro conseguenze quando si avverano. Il cigno nero è un evento raro e non previsto, che può generare conseguenze catastrofiche. È una metafora che si usa in finanza al verificarsi di quanto detto precedentemente. Nassim Nicholas Taleb è il filosofo e saggista libanese, esperto in matematica finanziaria, che ha sviluppato questa teoria, che si basa sullo studio di eventi rari, difficili da prevedere, che vanno al di là di qualsiasi analisi storica, finanziaria o tecnologica, e che proprio per questo sia quasi impossibile calcolare la loro probabilità di quando questi si verifichino. Oltre agli effetti psicologici, che questi eventi hanno sulle persone essendo inaspettati, di grande portata e con notevoli conseguenze. Il cigno nero non può essere previsto ed è raro e inaspettato. Le conseguenze sono importanti, possono essere sia positive che negative. Però spesso viene preso come riferimento quando ci sono eventi negativi non previsti, come lo è in questo momento il Covid-19. Quindi questa teoria serve per spiegare quanto sia forte l'impatto di questi eventi rari rispetto a quelle che possono essere le previsioni per poterli anticipare. Per come viene spiegata la teoria da Taleb, per poter affrontare al meglio un cigno nero dobbiamo cambiare quello che è il nostro modo di pensare, imparando a conviverci e modificare i nostri atteggiamenti in base a quanto possa impattare l'evento sul nostro modo di vivere. Nella storia, non solo quella finanziaria, ci sono stati molti cigni neri che hanno stravolto epoche oppure modi di vivere. Noi cerchiamo di ricordare quali sono stati quelli del settore finanziario che hanno portato a conseguenze negative importanti. Partiamo dai primi anni 70, con la crisi della IOS, la Investors Overseas Service, società di vendita di fondi comuni di investimento e servizi finanziari porta a porta. Dopo la forte ascesa a metà degli anni 60, il crollo che portò forti ripercussioni è al dissesto di alcune banche americane e europee. Per rimanere negli anni 70, la crisi del petrolio, con il taglio alla produzione da parte dei paesi arabi, con il conseguente crollo dei listini azionari di tutto il mondo. Negli anni 80, il giovedì nero della Borsa italiana, per l'esattezza il 29 maggio 1986. La bolla dei fondi comuni di investimento, che costretti ad investire solo sul mercato italiano, avendo le autorità vietato gli investimenti su borsi estere, avevano gonfiato le quotazioni dei titoli del nostro listino. L'anno successivo c'è da ricordare il famoso lunedì nero di Wall Street, il 19 ottobre 1986. In un solo giorno il listino americano perse il 23%, affossando tutte le borse mondiali. Anche in questo caso le quotazioni erano arrivate a livelli che non corrispondevano al reale valore delle aziende. Arriviamo al nuovo millennio, 11 settembre 2001. L'attentato alle torri gemelle a New York fa scendere i listini, toccando i minimi nella primavera del 2002. Consideriamo però che venivamo dal periodo della bolla internet e che quindi di una fase di eccesso di euforia. L'ultimo cigno nero in negativo è considerato il fallimento della Lehman Brothers e ricorderemo il 15 settembre 2008. Di conseguenza alla crisi innescata dai mutui subprime, che questi mutui venivano concessi anche a persone che non erano in grado di rimborsarli, gonfiando il settore immobiliare e mettendo in crisi anche di conseguenza il settore finanziario. E questo fu l'inizio un po' di un forte periodo di recessione mondiale. L'ultimo credo si possa considerare il coronavirus che stiamo vivendo in questo periodo. Come detto ho voluto spiegare il significato della teoria dei cigni neri e riepilogare quelli che sono stati a livello negativo. I cigni neri però ci sono anche in positivo e forse i prossimi saranno proprio così, non dimentichiamolo. La citazione di oggi è la seguente. Tutti possiedono le capacità mentali necessarie per far soldi in borsa, ma non tutti hanno voglia e fegato a sufficienza. Se avete la tendenza a vendere tutto in prenda al panico, fareste meglio a evitare del tutto azioni e fondi di investimento. Peter Lynch, rendiamo la finanza amichevoli. Vi aspetto.